Abbiamo due figli e insieme abbiamo deciso di accogliere nella nostra famiglia bambini meno fortunati per accompagnare con calore e affetto il loro percorso di crescita in una fase così delicata della vita. Grazie al piano di zona Salerno 8 e all'affiancamento dei consulenti ci stiamo preparando a vivere questa esperienza nel miglior modo possibile. Grazie a tutti! Grazie a tutti!